Ehi Steph! Ciao Fede, dimmi! Vuoi un palloncino? Certo, mi piacciono i palloncini! Vieni, vieni, vieni che trovo, Steph! E dove sei, dove sei, Fede? Di dietro, gira l'anno! Ciao, Steph! Ma io, Fede! Ma come ti stai vestita oggi? Fede, cosa stai facendo? Niente, Steph, vieni qua, torna subito! Devo dirti un'altra cosa! Non voglio più il palloncino! Vieni! Ehi ragazzi, come va? Io sono Fede, Niki! E sono Steph, che sto giocando GTA 5! E oggi torniamo con i labirinti di GTA! Questa volta l'assassino dovrà vestire i panni di Pennywise, ovvero il pagliaccio di It! A me non piacciono i pagliacci, Fede! Eh, lo so, Steph! Però lo dovrei fare, sarà molto divertente ucciderti, dai! Quindi cosa c'è? Però, in realtà, coincidenza, io per questo video avevo preparato delle nuove regole per i labirinti! Come nuove regole? Eh, Fede, non possiamo sempre fare le stesse cose, sempre lì che ci inseguiamo tre minuti e ci si ammazza e bla bla bla! Ok! Quindi ho cambiato un po' le regole e ho pensato una cosa simpatica! Allora, tu mi devi cercare di ammazzare per un minuto e trenta! Ok! Se in un minuto e trenta tu non riesci ad ammazzarmi, io avrò automaticamente un'arma per poterti ammazzare a te, ma tu comunque terrai la tua arma per potermi ammazzare! Ok! Però io avrò un'arma un po' più forte della tua, perché appunto sarò sopravvissuto nel caso un minuto e trenta senza nulla! E quindi magari io avrò un fucile a pompa e tu un macete! Perfetto! E hai avviato il timer del minuto e mezzo? Sì, l'ho avviato, Fede! Oh yeah! Ce l'ho fatta! Vado via! Vado via! Vado via! Corro! Come hai fatto a fare quel salto? Non so! Cioè, a me hai scivolato! Come hai fatto? Infatti ero incastrato lì, Fede, per quello poi mi hai picchiato, perché mi ero incagliato lì! Allora, dove sei finito? Da nessuna parte, Fede! Allora, un colpo però te l'ho dato, quindi ne mancano pochi alla tua morte, Stef! Sono basso di vita! Eh sì! Per il più siamo sopra un palazzo, quindi siamo pure in alto! Sì, ho chiesto a non buttarti! No, 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 ti prego, ti prego, ti prego! Albo! Quanto sei durato? Un minuto e dieci! Ah, peccato! C'eri quasi, Stef, la tua arma! Io stavo già preparando il fucile a pompa! Eh sì, c'eri, c'eri! Però purtroppo ti è andata male, mi dispiace! Guardate come l'ho fatto io! Sinceramente il mio è più bello! Sondaggino per dire se hai fatto meglio da me o da Fede! Non è più bello! Il fatto è che da me l'Apolo non si poteva mettere sotto la salopette! E quindi ho dovuto scegliere un'altra maglietta, perché lo volevo fare anch'io così! Sei pronta? Tre, due, uno, via! Ok! Ciao, Fede! No! Uno! Come hai fatto ad essere già arrivato? È perché ho capito verso che zona potevi essere! Allora, ok! Ti vuoi giocarla sul parkour? Non è una buona idea, Fede! Lo sappiamo entrambi! No, cavolo, questo è un vicolo cieco! È un vicolo cieco! No, ti prego! Ok, ok, sta andando, sta andando! Non ti vedo più, quindi non è un buon segno! Non sapere dove sei! Non so dove sei! Comunque sono terribili questi labirinti, Stef! Dovremmo smetterla di farli, mi mettono troppa ansia! Eccoti! No! Dai! Un altro colpo! No! Non vale, però! Nessuno qui riesce ad avere l'arma, non vale! Un minuto e 06! Io sono giocato un minuto e 10, quindi abbiamo fatto praticamente lo stesso identico punteggio! Fede fino! Avviato il timer! Dove ti sei cacciato questa volta? Dove sei finito? In un posto che non conosci! Mi sono un po' nascosto! Allora, dove ti sarai cacciato? Non lo so, non ho un'idea! Se è un posto che non conosco vuol dire che ci sei arrivato in qualche modo strambo? Ma io pensavo che mi avessi visto! No, dove sei? Mi sei passata di fronte! Qui dietro non sei! Ma come fa? Vabbè, vabbè! Eccoti, eccoti! Eccoti, Steph! Ferre, ti prego! Dove sei? Ferre, ti scongiuro! Uno! Due! Beh, il terzo no! Il terzo no! Uh! Hai la fortuna sfacciata di non so che cosa, Steph! 30 secondi, eh! 30 secondi, caro mio! Allora, è l'unica a giocarsela qua! Perché sappiamo bene che Ferre non è molto brava in queste cose! Ok, bravo, Steph! Invece ce l'ho fatta! Bravo, Steph! Dove ci... Uh! Ferre? Dai, dove sei? Ferre, ti vedi in difficoltà! No, non so! 10 secondi! Scendi da lì! 8, 7, 6, 5... Non inizio a scappare! 3, 2... Non mi conviene! Ok! Sono nell'altra direzione! Dove sei? Dove sei, cara mia? No! Ma un colpo! Ciao, fatta! Mi dispiace, Steph! Hai sbagliato! Cioè, sei molto vistoso! È tutto celeste e tu mi ti... Mi... Cioè, ti vesti di giallo! Non riesco neanche a dirlo! E ti ho visto lontano un miglio! Ti noti, Steph! Ti noti! Ho sprecato l'occasione di una vita! Eh, sì! Nuovo giro, nuova corsa, Steph! Ho cambiato labirinto! Ho notato! È molto più stretto! Questo è strano! Il timer è già partito! Eh, lo so! Io sto già correndo in giro, Steph! Non è che sto perdendo tempo come te qua! Però non si capisce in che direzione bisogna andare! Perché tutte le strade sono strettissime! Poi ogni tanto ti infili in qualche vicolo cieco e non capisci più dove vai! Eh, sto avendo... Ti stai orientando, no? Sto avendo difficoltà, Ferre! Sto avendo... Eh, sì, sì, sono molto confuso! Non puoi capire il perché... Ti stai nascondendo da qualche parte, ho già capito! Eh, sì! Ho già capito! Come fai a capirmi così in fretta, Ferre? Io non lo so! Perché sei banale! Hai ragione! Banale! È sempre scontato, Steph! Il problema è che io non sto... Monotono! Sì, sì! Non sto trovando altre strade! Mi sto continuamente incastrando in posti! Mi dispiace! Ma se da un colpo a questo esplode! Forse con i proiettili! Steph, dove sei? Ma è passato un minuto e trenta! Eh, Steph, non ti trovo! Manco tu hai trovato me, quindi non stiamo andando bene qui, eh! Beh, diciamo che... Il rifetto a me sembra di fare sempre le stesse strade, non capisco più dove sono già passata, dove dovrei andare, non lo capisco! È molto complicato! Io sono nella zona dove eri tu all'inizio, secondo me! E io forse sono nella zona dove tu eri all'inizio! Può essere! È tutto troppo stretto, Ferre, non c'è spazio! Non c'è spazio di manovra! Eccoti! Ma che cavolo ci fa in bici, Steph? Ma che cav... Basta! Cioè, io ti ho detto! Dobbiamo... No, 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 no! Fermati un attimo, perché qua sono i cinque minuti della mia ramanzina, anzi, cinque secondi! Ok! Cioè, ho capito che dovevamo giocare a Pennywise, a fare hit, ma cioè, me ne va in giro pure che non la bici come i bambini del film! Ho trovato la bici, Ferre, mi è piaciuta moltissimo! E sono... Questo però non me lo meritavo, eh! Perché ti dovevo dare un colpo! Eravamo... Un colpo per un colpo! Eravamo talmente stretti, io andavo in bici così! E tu neanche a me dicevi, oh, sei prevedibile, ti sei nascosto, quello, quell'altro! Io che andavo in bici in questo posto strettissimo, che non ci passava da nessuna parte... Non fai ridere a nessuno, Steph! È stato difficile, è stato molto difficile! La mia tattica questa volta è continuare a correre in questi piccoletti! Secondo me diventa tutto più difficile per Ferre, perché ci si perde tutto... Mi hai già visto, vero? No! Ferre, sono già passati 50 secondi! Che ti devo dire, Steph? Non vorrei farti ricordare cosa si prova a subire un colpo di fucile a pompa! Eh, ho sfortuna oggi, capito? È una giornata sfortunata! Secondo me non è sfortuna, Ferre! Sì! È impossibile prenderti però, perché accidenti il personaggio prende i muri! E poi come cavolo ti sei vestito, Steph? Non è importante quello! L'importante è che adesso scappo! No, ma qui non ci si rip... Uno! Aia! Ma come mi hai preso... No, dai, attraverso il muro è illegale! Sì! Questo è perché mi hai insultato e mi hai detto che sono un incapace e tutto così... Oh, che succede? Ma mi hai preso tre volte attraverso un muro? No! Come attraverso il muro? Sì! Io ti... Io ero dall'altra parte! Cioè, sei serio? Ahà! Eri dall'altra parte? Sì, tu devi colpi al muro e mi colpivi! Io ti vedevo nella mia stessa corsia, cioè, infatti non capivo il tuo commentare, perché ti vedevo esattamente di fronte a me! Nuovo labirinto, nuove regole, Fede! Questa volta sono io il pagliaccio, quindi decido io, va bene? Se lo dici tu! Nessun timer, nessun, diciamo, countdown per certe cose, semplicemente funziona così! Io sono armato di armami lì, come sempre, quindi in questa cosa avrò una mazza da baseball! Tu avrai soltanto le granate! Ok! Ok! Fammi vedere se ne ossine, ovviamente! Ovviamente le puoi tenere in mano cercando di tirarle all'ultimo per farle esplodere vicine, eccetera, eccetera! E non altri tipi di bombe strane, ok! Esattamente, solo quelle classiche! Uno contro uno, tu granate e io armami lì! Io ci provo! Sei pronta? Ne sto tirando una in aria, vediamo se ti becco! Ok! Uh! Aiuto! Inizio già a pentirmi di tutto questo! Allora, ok, questo mi ha fatto un po' di paura in più! Secondo me so in che zona sei, Fere! Oh, io non ti vedo, eh! Secondo me... Aiuto! Ok, più o meno quella, quindi! Però! Forse si è messa qua! Che però, Steph! Ma che però! Dove sei, Fere? Dove sei? Non ti trovo, Fere! Esplodiamo insieme! Non me ne frega nulla! Rifacciamo un round così! Sì, però sei tu il pagliato! No, no! È divertente! No, 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 no! Perché mi devi privare della giornata di lanciare granate? Adesso dobbiamo scambiarci! Però la rosa e le granate allo stesso! No, Fere, non puoi! Che posto? Anche perché... Granata contro granata! Granata! No, Fere! L'ultimo round! Questo è Jason contro Pennywise! Mi sono messo Jason! Oh, che bello! È la sfida all'ultimo sangue! Chissà chi vincerà! Pronta? Sì! Ok, via! Una! Stai tienendo granate, Fere? No! Ah, ok! Che vuoi da me? Ho l'ascia in mano! Non sto barando! Ok, meno male! Ti ho vista! No, donazione! Ce l'hai in mano, Fere! Se ti avvicini esplodi anche tu! No! Perché esplode quando ci sono io e non tu? Perché la stavo tenendo in mano già da un po' Fere! Sono bravo con le granate! Guarda, dato che è durato 20 secondi, ti do la rivincita! Ok? Dove sei? 3, 2, 1, via! Questa ti prendo subito! Guardate! Adesso esplode! Adesso esplode! Me lo sento! Mmm... Fere? Prima o poi ti prendo! Cioè, prima o poi, per forza di cose, ti prendo! Giusto? No! Fere? Cioè, non mi sembra neanche che ci sei vicino! Non lo capisco! Perché l'esplosione non è che si capisce bene da dove arriva, Steph! Mi dispiace! Non so dove sei! No! Che fai? Cerca di colpirti! Non tenermi all'oscuro! Che fai? Io so dove sei e quindi sto cercando di colpirti! E allora continua a correre! Fere! Dove sei finita? Ti ho perso! No, io non ho la più po' l'idea di dove tu sia! Ti dico la verità! E ti ero dietro prima! Mi sei passata di fronte e non mi hai visto! Però... Ora non so più dove sei! Quindi sono di nuovo preoccupata! Penso di aver girato tutto! È lungo e largo e non ti ho mai incrociato! Ma com'è possibile, Steph? Perché non riesco a vederla? Sei mimetizzato dietro qualche albero! Cioè, non so che dire! Non c'è spuglio o qualcosa del genere! Ti prego, Gioco! Fammelo vedere! No, Fere! Perché si affucì la pompa? Perché mi devo vendicare! È l'ultimo round, Steph! Muori! Scusa, Steph! L'ho dovuto fare! L'ho dovuto fare perché mi hai fatto molto arrabbiare durante tutti questi round! Quindi ci voleva la vendetta! Proprio il finale col botto, Steph! Senza botto, se mai! Allora, poi in ogni caso ti ho ucciso a mo' di gomitare! Beh, certo! Quindi almeno non ti ho finito con il fucile! Dai, ti ho lasciato un po' di dignità sul finale, no? Mi rifiuto di rispondere! Beh, ragazzi, se non ci riesco a rispondere, lasciateci un like! E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri fisoni! Ciao, alla prossima! Ciao ciao! Ciao ciao!